Ciao Albano! Parliamo della rimozione da questa lista nera delle persone come minacce per la sicurezza in Ucraina. Che succede oggi di Albano? Io ero già libero prima perché sono arci convinto, lo ero, lo so, essendo uomo di pace io non potevo stare assolutamente in una lista nera perché non ho mai fatto niente di male in nessun tipo di paese. E quindi oggi qui a Cerino San Marco a casa tua riceverai l'ambasciatore ucraino. Sì, credo tra un'ora e mezzo arriverà e ci stringeremo la pace e forse canteremo una canzone che è per titolo Libertà. Io ce l'ho la canzone. Mai canzone fu più azzeccata insomma. È stato un inno tra l'altro la canzone Libertà in tutta quella fascia di mercato. Ma come è possibile una persona che metteva questo spirito così solare, in pace, sia stata tacciata di... Secondo me bisogna chiederlo a loro, non a me. Io ho sempre fatto quello che faccio, non ho mai avuto problemi di nessun tipo e non vedo perché dovevo meritarmi questo titolo onorifico che giustamente ho mandato a me. Allora, fatemi capire, così capiamo anche dalla... Sei stato sempre più che corretto. Quando tu sai qual è la tua forma mentis, quando sai quello che hai fatto, sei più sicuro di così, non esiste altro tipo di sicurezza. Per cui tutti possiamo sbagliare perché, come dicevano gli antichi romani, errare humanum est. E io sono humanum e so che... Allora, Albano, mi senti? Adesso mi senti, Albano? Ma ci fidiamo di te. Sì, Albano ci ha regalato questa grande esclusiva... Valerio, scusami, mi senti o no? Per capire, perché sennò mi dice che l'audio va, ma non va. Sapevi, Albano, che c'è una white list, una lista bianca di persone che invece sono meritevoli del supporto dello Stato. Magari l'ambasciatore ti proporrà di entrare in questa lista. Vediamo. Prendo per buono quello che tu stai dicendo. Allora, scusa, posso telefonare ad Albano? Ci sono sparse negre, c'ho scluo nell'interno di questa lista. Allora, aggiungiamo. E tra l'altro... Faremo un grande concerto, il concerto della pace. A Kiev. A Kiev, per tutto il mondo. Anche perché tu... Si sappia. Io sono sostanzialmente, eticamente, un uomo di pace. Non posso essere un altro. Ma non avevamo dubbio, anche perché lo conoscete, lo vedete, come può Albano essere un uomo di guerra. Tra l'altro abbiamo con noi il tuo avvocato, Cristiano Magaletti, che è qui con noi e chiede all'operatore di inquadrarlo. Cristiano, questa vicenda giudiziaria è stata difficile da gestire. Ciao, buongiorno. Assolutamente sì, ma è stato un fulmine a ciel sereno che ha un po' indispettito tutti gli italiani. Perché, diciamo, alla fine io sarò di parte, ma Albano comunque fa parte della nazione. È un po' il tricolore stampato sulla sua faccia. A livello giuridico, insomma, è stata, l'abbiamo ritenuto, una violazione della CEDU, della Convenzione, dell'articolo 10 e quindi della libertà di opinione. Perché, a prescindere da tutto, Albano ha espresso una sua opinione e non ha leso sicuramente l'immagine né i diritti degli ucraini e di nessun popolo. Quindi ci eravamo un po' incattiviti, diciamo, addirittura minacciando di ricorrere la Corte di Strasburgo perché ne avevamo i pieni diritti. Dopodiché cosa è successo? Che, coinvolto anche, e ringraziamo il nostro ministro degli esteri, l'ambasciatore ucraino ci ha convocato, o meglio, insomma, abbiamo fatto questo incontro che inizialmente è stato amichevole a Roma. Alla fine un po' ci siamo guardati in faccia con Albano e abbiamo deciso di desistere da questa iniziativa giudiziaria dando fiducia a quello che poteva essere, diciamo, un incontro di mediazione. Poi così è stato, tant'è che oggi suggelliamo questo superamento di questo incidente diplomatico internazionale. Pace fatta. Pace fatta e siamo tutti a Kiev, diciamo. Per un grande concerto, Eleonora, finalmente, non sentono l'audio. Io ti sento, riferirò ad Albano ciò che stai chiedendo. Valerio, ci senti? Sì, ti sento. Metti l'auricolare ad Albano. Sì, adesso ti sento. Sì, lui è il veritivo di sentire, io no. Valerio, metti l'auricolare ad Albano, per favore, così mi sente pure lui. Ecco, ecco, Albano. Grazie. Oh, Leonora. Oh, adesso sì, non c'è il contatto. Allora, adesso mi racconterai bene, bene, intanto lo sai che ti voglio un bene dell'anima. Questo volevo che tu lo sapessi per sempre, per tutta la vita. Volevo dirti che qua ci sono un sacco di amici tuoi. C'è Sidney Room qua. Ah, un abbraccione. C'è Maria che la saluta. C'è Maglio Dovi. Ciao, saluto. Ciao, saluto. Daniela Rosati che ti salutano. Siamo tuoi estimatori. Un abbraccio a tutti. Io so la canzone che deve cantare a Romina. Senti, Maglio Dovi, che cos'è che gli vuoi dire? Eh, innanzitutto siamo tutti estimatori, siamo tutti contentissimi. Io già ho la canzone, abbiamo cambiato le parole perché ti aspettano in Russia. Quindi lui ha chiamato Romina e le ha cantato. Questa devi cantare. E vai, in Russia tu ci tornerai. cantarei, insieme a me tu canterai e lo zio Putin a noi ci applaudirà. Ehi, che secco. La culto lo faccio meglio la sera. Senti. Albano, la culto lo faccio meglio la sera. E poi è meglio scappamo perché qua... Va bene, lo ascolteremo di sera allora. Senti, ci sono un sacco di amici tuoi qua. Allora, adesso finalmente che possiamo parlarti bene. Dunque, dimmi un po' che cosa succede oggi. Fra quanto arriva l'ambasciatore ucranio in Italia? Lì da te alla tua tenuta? Allora, io... Raccontami bene la storia. Io non so quello che succederà. Eh? La storia è stata che, come tutti ben sanno, come anch'io ho saputo, perché quando ho letto quella notizia non credevo, dico, ho sbagliato nome. Avranno... E invece si trattava di me. Il perché non lo so, ma la cosa bella è che l'avvocato Cristiano Magaletti è riuscito a fare un'operazione d'arte e soprattutto di verità. Abbiamo incontrato l'ambasciatore già in un'altra occasione ed oggi vengono qui a casa per suggellare un patto di tranquillità, perché io non sono mai stato un terrorista né ho intenzione di fare il terrorista. Sono un uomo di pace, l'ho detto mille volte, lo ripeto, casomai qualcuno si è sintonizzato in questo momento, in questa trasmissione. Faccio parte della storia italiana, questo è inevitabile, e porto avanti il discorso dell'Italia nel migliore dei modi, nel più limpido dei modi, nel più corretto dei modi, cantando in questo caso e anche vivendo, perché non c'è divisione tra l'uomo che canta e l'uomo che vive. Allora Albano, in questa lista mi risulta che perché tu sei stato cancellato adesso da questa lista e poi oggi, come dici tu, proprio perché tu hai già parlato con questo ambasciatore, però verrà proprio lì a Cellino per dimostrare che, insomma, pace è stata fatta. Però in questa lista ci sono ancora altri nomi italiani. Mi ricordo che c'era anche l'anno scorso stato inserito il nome di Toto Cotugno e poi c'è ancora nella lista, perché noi siamo andati a vedere questa mattina, questa mattina c'è ancora Michele Placido degli italiani dentro questa lista. Beh, Michele Placido sia nel cinema che in televisione e nella vita è sempre stato anche lui un uomo di pace, un uomo d'ordine, l'avvocato Cattaneo, lì so che sia in Russia che in Ucraina è un idolo, un personaggio amatissimo. Come fa ad essere nella lista nera? È sicuramente qualche misunderstanding, come dicono gli americani. Sono convinto di ciò che dico. È pazzesco. Prima perché conosco Michele, secondo perché so quello che ha fatto e come l'ha fatto, questa lista nera non se la merita. Bravo. Lo vogliamo immediatamente nella lista bianca, insieme a noi. E poi c'era Toto Cotugno, Amantini, giusto? C'era anche Toto Cotugno. C'era anche Toto Cotugno, ma io quello che dico, che ho più volte detto anche in questo studio, l'onora, gli artisti, proprio soltanto per il fatto... C'era anche Toto Cotugno. C'era Toto, sì, sì, c'è ancora, c'è tutt'ora. Il fatto di portare la loro arte nel mondo non potrebbero mai essere inseriti in lista del genere o essere considerati ai terroristi. Questa è la notizia che tutti volevamo aspettare e aspettavamo da mesi. Speriamo che accada lo stesso per Michele e per Toto. Albano è la musica italiana nel mondo. Come si può considerare un terrorista? È follia. Daniela Rosati, Daniela. Ecco, Albano, ti saluto. Buongiorno, che gioia ricevere questa notizia, siamo molto contenti. Ringrazio di avermi invitato. E voglio anche ricordare che Albano è un uomo di grandissima fede e che quindi sono certa che la preghiera... Io ho pregato per Albano, come sempre, come faccio da tanti anni, e sono sicura che giustamente, meritatamente, si chiarirà questa situazione che era veramente un po' assurda, diciamo così. Allora, adesso ve la racconto perché vicino ad Albano c'è il suo avvocato. Allora, Albano, voi, insieme all'avvocato, avete appena saputa questa notizia? Perché io mi ricordo, noi ci eravamo sentiti al telefono, non è l'anno scorso più o meno, cosa era stato? Marzo, aprile. Hai detto, ma non è possibile, no? Allora, con l'avvocato, che cosa avete fatto subito? Perché poi questi sono percorsi, insomma, anche legali importanti che vanno raccontati. Guarda, il percorso giuridico l'ha fatto la grande l'avvocato, e secondo me è il migliore esponente nel spiegare esattamente qual è stato questo percorso e quello che è successo. Ma è importante anche il risultato che abbiamo ottenuto, che è un risultato che corrisponde al 3.000% alla verità. Ecco, allora, avete scritto subito il primo passaggio? Ah, devo sentire. Sentiamo. Eccoci, buongiorno. Il pano che gli passa la cuffia è meraviglioso. Allora, ciao. Allora, il primo passaggio qual è stato? Una in tre? Allora, il primo passaggio è stato quello un po' dell'imbruttimento, nel senso che, ovviamente, nel momento in cui abbiamo ricevuto la notizia che è stato un fulmine a ciel sereno, insomma, io, da un lato, codice alla mano, ho visto che, insomma, c'era una evidente violazione dell'articolo 10 della CEDU, ossia della libertà di opinione, di manifestazione delle pensiero, perché in realtà Albano ha solamente manifestato un suo pensiero, ma senza ledere i diritti, le immagini, di nessuno e del popolo ucraino ci mancherebbe, anche perché ama tutti i popoli, ha cantato anche in Ucraina, quindi è stato veramente, insomma, un'offesa dal lato nostro all'immagine di Albano, che è un cantante nazionale, quindi si è sfiorato quasi l'incidente diplomatico. E allora che cosa avete fatto? Cosa abbiamo fatto? Abbiamo scritto, innanzitutto, una lettera direttamente al governo ucraino. Abbiamo coinvolto anche il Ministro degli Esteri Interno. Sì, al governo direttamente, siamo andati diretti al governo, abbiamo minacciato anche il ricorso, che era bello che pronto, alla Corte di Strasburgo. Cioè avete scritto anche la Corte di Strasburgo? Fortunatamente. Capito? No, allora, avevamo predisposto il ricorso. Avete fatto ricorso, sì, dimmi, dimmi. No, allora, nel frattempo siamo stati coinvolti e chiamati, fortunatamente, dall'ambasciatore ucraino, che a seguito delle nostre, insomma, un po' minacce giudiziarie e anche di comunicazione, ci ha accolto a Roma ad aprile. E ad aprile, insomma, è stato soprattutto Albano a dare fiducia a questo percorso di mediazione e quindi non abbiamo fortunatamente più seguito quella strada giudiziaria che avrebbe incancrenito e un po' irrigidito le rispettive posizioni. Ma nel frattempo abbiamo atteso perché il termine per il ricorso di udienza scadeva dopo sei mesi ed è arrivata questa bella notizia informalmente a settembre ma solo qualche giorno fa a livello ufficiale perché adesso, se andate a vedere sul sito del Ministero della Cultura non c'è più il nome che in cirillico era Capissi, mi sapevo c'era anche la crisi in italiano ma c'era la piccirillica e quindi era difficilmente leggibile non c'è più al numero 48 il nome di Albano e quindi Albano ora non è più ufficialmente nella blacklist e oggi suggelliamo con il vino di Albano questo successo e questa pace anche tra nazioni. Ecco, allora ripassa la cuffia d'Albano per favore se è possibile, se no lo chiamo. Subito e un saluto a tutti. Grazie. Vi passo la faccia. Di cuffia in cuffia, insomma, i cuffiati. Allora, Albano, per cui potrai tranquillamente... In cuffia, è bella questa espressione. Potrai tranquillamente fare i tuoi concerti lì adesso, finalmente perché si era un po' bloccata questa cosa, no? Potrete andare a cantare, tu, Romina, insieme, anche in Ucraina. Se mi chiamano ci andrò, se non mi chiamano aspetterò che mi chiamino. Eh, figurati se non ti chiamano. Secondo te, Albano... Comunque il concerto per la pace ci sarà. Sei tanto amato, no? Il concerto per questa pace, sì sì, è pazzesco lì. Sei tanto amato anche lì. Il mercato... Eh, perché è veramente un grande successo. Tutto il mercato all'est sono amatissimo. Tu pensi se sono stato adesso in Uzbekistan? Beh, non vedo l'ora di ritornare. In Kazakistan, fantastico, perché c'è una... Vabbè, la Russia lo sappiamo. Ma in quanti vengono ad ascoltarti? Non vedo l'ora di ritornarci. Quante migliaia di... Ah, fai sempre... Un'enormità. 3.000, 4.000, d'estate magari 10.000, dipende anche dalle stagioni. E' incredibile. E le tue canzoni più belle, quelle che ama tutto il tuo pubblico italiano, sono le canzoni amate anche all'estero. Quando gli canti felicità, impazziscono? Cioè? Si esaltano. Si esaltano. Oh, finalmente arrivai! Una bella canzone, ha scritto Vinellono... Chi è, chi è? Oggi guarda, mi piace la felicità, felicità. E che è, chi è? Sentire in aria ci fa la nostra canzone. La nostra canzone d'amore che va. È il pensiero che sta di felicità. Un bel brano, eh? È il trionfo della semplicità, questo brano. E soprattutto della universalità. Perché in tutte le parti del mondo scatena sempre un eccesso, piacevole eccesso di allegria, di felicità, di semplicità. E mi piace per quello. Senti... Come sei te, Almano. Eh, sì, come lui, esattamente. Tu sei così, tu dai felicità, ti ringraziamo per questo. Veramente, grazie. Anch'io vi ringrazio. Poi, se ti va, domani facciamo le replay sulle cose che ci siamo dette con l'ambasciatore. Allora, l'ambasciatore, fra l'altro che so che parla tante lingue, perché tu l'inglese lo sai parlare benissimo, Albano? Lo parli di solito? Cioè, quando vai a leggere? L'inglese bene, lo spagnolo molto bene, un po' di francese quasi bene e soprattutto il pugliese io parlo benissimo. Bravo! È meraviglioso, eh, Maria Teresa? No, bravissimo, fantastico. Parlo anche pugliese, è geniale, perché lui è un uomo così schietto, divino, direi. E' anche molto ironico, lui è ironico, Albano è veramente ironico. Questa situazione è stata anche un po' grottesca, quindi è giusto che si sia. È come se lui ora cantasse, a proposito di tasse, Albano, no? Dice, ecco, perché la fuga è dall'Italia. È come se cantasse felicità, è un bicchiere di vino, il bicchiere è de plastica, ma tassato, capisci? Quindi, c'è divino che è il suo, quindi è grottesca, quindi si deve ridere anche su questa, e poi anche per questo lieto fine, quindi veramente complimenti. Senti, ma se arrivasse il principe Carlo, cosa direbbe, Albano? Ma noi siamo molto felici che lui vada in Russia. Sono Carlo, Carlo Albano. Ma anche se venisse... Sì, Ucraina, Ucraina. Sì, Ucraina. E io si dice. Principe, non faccia confusione. No, ma è proprio Carlo. È proprio Carlo. Anche se venisse di noi. Su questioni diplomatiche, eh, perché in questo momento la storia... Hanno riscattato i napoletani, eh. Non ci sta a capire più niente. Hanno riscattato i napoletani, perché normalmente chi fa questo tipo di burle sono napoletani oppure meridionali. Adesso sappiamo che è stato un americano. Non gioisco, sia ben chiaro, però ogni tanto è bene passare la palla, no? Caro Carlo, please, wake up. Yes, no, ti aspettiamo, mamma ti aspetta. Buon o senza Brexit. Mamma sta bene. E chi l'ammazza? Ogni mattina, mamma, quando ti ascolta, noi la salutiamo a colpi di cannone. Lasciamo la campare che ha fatto... Non abiliamo mai. Io devo gridare. La regina, la regina. Lasciamo la campare che ha fatto delle cose straordinarie. La regina, senti, invece... E qui, ha fatto delle cose eccezionali nella sua vita. Senti, a proposito della mamma, invece, a proposito della famiglia, lì tutto bene, sei nella tua tenuta. Noi vediamo solo un muro là, però la tua tenuta è enorme. Come un muro. Vedo solo un muro. Valerio ti ha messo là sul divano. Perché non fa un giro? Ti facciamo, Eleonora, ti facciamo fare una fotografia in fotografia. In un mezzo secondo ti faccio vedere la zona in fotografia, però. Ecco, stiamo vedendo adesso, Eleonora, tutte le tue foto. Ce le vuole descrivere qualcuno? Dove è la foto con Eleonora? Ce n'era una. Addirittura c'è una foto con Eleonora sulla parola. Sì, sì. Che bella. Raccontami un po' cos'hai appeso. Però, gira. Gira. Vanno, raccontami un po' cos'hai appeso. Eccoci. Ho messo quella foto che ci beccano insieme il giorno del tuo matrimonio. Ah, beh, beh. Guarda. Mi hai emozionata. È stato un bel momento sacro. Mi hai emozionata, Vanno. Perché è arrivata la spia. Non sapevo che tu ci fossi. Mi hai fatto una sorpresa. Hai cantato l'Ave Maria in latino come nessuno sa fare. Solo tu. Sei... L'Ave Maria di Gounod. Straordinario.